Vai partiti Come si zooma? No, non si zooma Senza andarci troppo vicino perché è un destro Perché è un destro? È un test Ah, quindi potrai anche ammazzarmi? Brava Vai più vicino possibile Vai più vicino possibile Nuovo? Ma se tipo uno ci mettesse la gamba Grazie a tutti 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 Grazie a tutti